signore e signori benvenuti sul canale vintage fra poco andrà in onda il programma delle cinquantenni single chi l'ha più visto arrivederci noi siamo anonimus signore e signori benvenuti dimmi che sei calda dimmi che sei calda manda anche tu un sms che ho scritto filmare da tutte le ore fra poco vai in onda aiuta il povero salvatore infa fatti